Netti Ripalta, responsabile delle donne SPCGL. Oggi qui a Sansevero si parla dell'impatto molto serio, molto grave della crisi economica, l'impatto sulle donne. Qual è l'esperienza diretta, quali sono i dati che avete a vostra disposizione? I dati che abbiamo a nostra disposizione sono veramente tremendi. A tutto quello a cui ci riferiamo come disoccupati, disoccupati di giovani, sottooccupati, esodati, in più c'è l'aggravio di essere donne. Per cui a un certo punto siamo le prime ad essere in un certo senso emarginate e oltre tutte le ingombenze che abbiamo noi sostituiamo in effetti i servizi sociali per cui non riusciamo mai a raggiungere un'uguaglianza sul piano proprio di essere persone. Qual è l'obiettivo che vi ponete per il 2014 e in generale per l'uscita progressiva da questa crisi? Per l'uscita noi proponiamo intanto un'attenzione forte di tutta la classe politica sulla questione del lavoro. Per noi il lavoro è indispensabile prima anche per riguardo le pensionate, per liberarci anche del tempo perché noi siamo anche delle lavoratrici, siamo state lavoratrici, abbiamo sostituito i servizi sociali qui nel meridione e nello stesso tempo ci interessiamo anche della cura, siamo quelle destinate alla cura, quindi noi vorremmo un'attenzione maggiore perché anche se la donna dovesse decidere questo c'è sempre bisogno dell'apporto dei servizi sociali, quindi il nostro obiettivo è sviluppare il lavoro e un welfare che vada all'attenzione proprio della partecipazione delle donne. Siamo uguali e pretendiamo essere cittadine del mondo e non essere messe sempre ai margini, quindi ci proponiamo anche di entrare con le nostre proposte negli organismi dirigenti e siamo lieti che il sindacato nelle tesi del congresso accolga in pieno questa nostra esistenza. Patrizia Lusi, presidente di Capitanata Futura, oggi si parla di un tema molto importante, l'impatto della crisi sulle donne, come sentivamo prima da Netti Ripalta sulle donne c'è un impatto forse doppio, come associazione quali sono le riflessioni, gli obiettivi soprattutto che vi ponete per superare questa situazione? Sì, l'associazione Capitanata Futura ha in diverse occasioni intervenuto attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari perché l'Unione Europea dedica un'attenzione particolare al problema della disoccupazione femminile in particolare. La disoccupazione femminile è più difficile da stanare rispetto a quella maschile perché normalmente il mercato del lavoro delle donne è condizionato da contratti di precariato, da lavoro in nero, da lavori sottopagati, da lettere di licenziamento firmate in bianco all'inizio dell'assunzione. Sono tutta una serie di stereotipi di natura sia culturale ma anche di natura proprio economica anche di natura economica che impediscono l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro e non ne favoriscono la permanenza, oltre a stereotipi di carattere culturali quali ad esempio che la donna a seguito della prima gravidanza poi lascia il lavoro e non ritorni più, non rientri più nel posto di lavoro. Siccome l'Unione Europea è consapevole che la crisi finanziaria ed economica è a valere soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione in cui purtroppo ci sono ancora considerate le donne ha predisposto una serie di strumenti sia di carattere economico ma anche e soprattutto strumenti che possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali tipo ad esempio il bilancio di genere che dà la possibilità agli enti locali di verificare quanto la sottrazione della disponibilità economica rispetto ad esempio all'assistenza sanitaria pubblica incida nel mondo del lavoro delle donne in particolare non nel mondo del lavoro in genere ma nel mondo del lavoro delle donne. Una delle misure concrete che chiedete alle istituzioni qual è? Le istituzioni hanno a loro disposizione dovrebbero avere come hanno effettivamente perché la Regione Puglia ha degli uffici che sono preposti anche preparati allo sviluppo dei fondi comunitari probabilmente quello che manca è forse un po' più di comunicazione un po' più di pubblicità infatti tutte le associazioni ma anche le associazioni sindacali dovrebbero, compresa associazioni di volontariato tra virgolette, di come Capitanata Futura dovrebbero avere proprio il pensiero di divulgare al massimo le azioni e le possibilità che ci sono per creare occupazione al femminile utilizzando dei soldi per cui addirittura sono previsti dei cofinanziamenti anche a fondo perduto per cui alla fine poi le cooperative delle donne le società create dalle donne non devono neanche restituirli. Maria Palumbo, SPCGL Sansevero un momento importante di avvicinamento al congresso provinciale qual è la realtà dello SPCGL a Sansevero soprattutto per quanto riguarda gli iscritti e gli attivisti donne? Ebbè, di iscritti ne abbiamo tante però ecco proprio forse a livello di attivismo vero e proprio c'è un po' diciamo così un po' carente anche perché negli ultimi anni la donna ha un po' avuto un momento di riflusso nel senso che si è chiusa un po' di se stessa anche perché diciamo non ha più fiducia nelle istituzioni, nella politica per cui questa cosa qui la porta ad un po' ad estranearsi da tutto e questo purtroppo però è un aspetto molto negativo perché in questo modo non facciamo altro che lasciare ad altri il campo di azione e questa cosa qui ecco dovremmo un po' cercare di recuperare questo aspetto perché secondo me è importante perché la partecipazione che è sinonimo di democrazia e significa anche confronto e confronto è sempre un momento molto costruttivo ecco quindi questo è uno degli obiettivi che vi ponete per il futuro, per come dire incrementare la partecipazione avete già dei progetti, delle idee in tal senso? noi vogliamo molto diciamo così giocare sulla cultura perché la cultura significa apprendimento e apprendimento significa possibilità di discutere e di apportare qualcosa di concreto cioè la cultura secondo me è alla base proprio per cui vorremmo avere dei momenti di approfondimento in tanti settori nel settore sanitario, nel settore scolastico nel settore assistenziale parlare di servizi che oggi come oggi stanno venendo meno ecco confrontarci su queste cose per trovare dei punti di aggancio di unità per poter decidere il lavoro da fare ed essere presenti sul territorio Antonella Morga, segretaria generale regionale CGL Puglia è un momento importante quello che state celebrando con l'avvicinamento al congresso provinciale naturalmente poi ai congressi e al congresso nazionale quali sono i vostri obiettivi e le vostre proposte come CGL per riuscire ad affrontare la crisi e ancora di più l'impatto che la crisi ha avuto sulle donne? noi abbiamo lanciato come CGL il nostro piano per il lavoro che è un progetto importante per il paese perché dalla crisi si esce se si costruisce lavoro e chiaramente il lavoro è una prerogativa che deve riguardare sia le donne che gli uomini e in particolare le donne che qui al mezzogiorno non lavorano nel 66,6% dei casi noi abbiamo un problema che si chiama donna e un problema che si chiamano giovani c'è espulsione dal mondo del lavoro c'è una disoccupazione senza precedenti e chiaramente chi ne fa le spese più alte sono proprio i soggetti più fragili le donne rientrano in questa platea e sono quelle rispetto alle quali noi proviamo a fare azioni come organizzazioni sindacali ma anche le istituzioni in questa regione stanno facendo una serie di politiche per cercare di portare le donne ad entrare nel mondo del lavoro certo un mondo del lavoro che soffre la crisi che non ha grandi opportunità ma che sta prevedendo per i soggetti cosiddetti svantaggiati una serie di opportunità la CGL si inserisce in questo solco e dice si crei lavoro si crei lavoro di qualità ma non ha discapito dei diritti ed è chiaro che quando si tagliano i diritti chi ne soffre di più sono i soggetti più fragili le donne nel mezzogiorno sono un'opportunità ma stentano ad entrare nel mondo del lavoro per una serie di motivazioni alcune di carattere oggettivo altre perché alle donne a volte si chiede molto molto di più che a un uomo e perché la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro non sempre si è nella condizione di reggerli ci sono poi eccessi come le dimissioni in bianco per cui se una donna comincia a lavorare vengono a volte fatte scrivere le dimissioni in bianco perché si possano licenziare quando rimangono incinte insomma c'è in realtà ancora un mondo del lavoro che è un po' ostile alle donne e che è quello contro cui noi stiamo cercando di porre le nostre controproposte le nostre rivendicazioni e il nostro punto di vista noi che in CGL abbiamo fatto una battaglia da tempo di parità la nostra segretaria è una donna la nostra segretaria generale le segreterie in genere sono composte almeno al 40% di donne noi scegliamo i nostri gruppi dirigenti in qualità mettendo tante donne nei posti di responsabilità vorremmo che accadesse così anche nella società se dovesse indicare uno strumento importante uno strumento finanziario istituzionale che possa andare verso gli obiettivi che voi diciamo avete state caldeggiando e a cui state lavorando quale potrebbe essere questo strumento? intanto molti strumenti che riguardano soprattutto le politiche di welfare noi li abbiamo condivisi con la regione Puglia non è stato così altrettanto a livello nazionale pensate alla riforma Fornero che ha fatto devastazione in particolare dal punto di vista previdenziale e pensionistico ma anche la stessa legge di riforma del mercato del lavoro che ha inasprito certe regole però non ha portato nuo i posti di lavoro ecco ci sono politiche di welfare che possono andare nel verso di favorire l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro in Puglia sono state fatte c'è stata la legge 19 ci sono state le politiche di pari opportunità si è fatta addirittura una legge sulle pari opportunità adesso si sta per approvare una legge sulle violenze di genere insomma bisogna fare in modo che alle donne vengano dati strumenti per poter lasciare il carico familiare e il carico che comporta la gestione di una famiglia e farle entrare con una certa serenità nel mondo del lavoro e quindi buoni servizio conciliazioni asili nido centri diurni per anziani sono tutti strumenti che vanno nel verso di alleggerire la tensione che molto spesso si scarica sulla donna che diventa l'unico servizio sociale di questa società quello che non costa è quello a cui tutti ricorrono in maniera molto più semplice e molto più facile Angela Villani, coordinatrice CGL Sansevero oggi parliamo proprio a Sansevero di donne dell'impatto che la crisi ha avuto sulle donne l'esperienza sanseverese che cosa insegna? i dati che avete voi qui sul territorio? i dati sono allarmanti già prima non è che su Sansevero l'occupazione femminile era ad alti livelli adesso in questo periodo che la crisi ormai è nel pieno la disoccupazione aumenta anche quelli che lavoravano stanno perdendo mano a mano il posto di lavoro quindi le percentuali di disoccupazione sono molto alte ecco per uscire fuori da questa situazione quello che chiedete anche alle istituzioni locali se anche come CGL Sansevero avete fatto delle proposte proprio nell'ambito territoriale di cui stiamo parlando sì noi abbiamo fatto le proposte io faccio parte anche della consulta delle donne di Sansevero che con l'amministrazione si è confrontata più di una volta però questa amministrazione ai tavoli promette però poi di fatto non mantiene nemmeno gli accordi che si prendono un'ultima cosa l'auspicio diciamo che il percorso che state portando verso il congresso porti ad un obiettivo se lei volesse vedere questo obiettivo quale potrebbe essere? come lo individuerebbe? anche la CGL in questo periodo sta a congresso e al centro ci sono le questioni del lavoro e quindi le questioni del lavoro riguardano gli uomini e riguardano le donne per cui andare a parificare o cercare di parificare o arginare la disoccupazione e quindi una buona occupazione anche per le donne qui a Sansevero in particolare dove la buona occupazione ce n'è poca Del Sordo responsabile del centro per l'impiego di Sansevero la crisi naturalmente porta disoccupazione e quindi una situazione sempre più critica per quanto riguarda il dato occupazionale in generale non scendendo nei dettagli e nei dati la situazione del lavoro per quanto riguarda le donne qui a Sansevero come si presenta? insomma non è confortevole chiaramente i dati che si possono dare anche se la provincia con diversi progetti cerca di far emergere questa problematica abbiamo il progetto rosa che è rivolto essenzialmente alle donne e cerca appunto di creare dei canali preferenziali per cercare delle occupazioni proprio per le donne e niente come centro per l'impiego state fornendo dei servizi come dire aggiuntivi in questo momento di crisi vi state attrezzando? allora il periodo è veramente un periodo molto molto duro abbiamo delle norme che vengono aggiornate, modificate in continuazione e devo dire che forse si complicano sempre di più la cosa diciamo che adesso sta facendo un po' salvaguarda un po' i lavoratori quindi uomini e donne e come sentivo prima alle altre interviste per quanto riguardava le dimissioni le famose dimissioni che venivano fatte firmare prima la stipula del contratto adesso la legge per fortuna propone dei vincoli che hanno valore solo se vengono convalidate presso il centro per l'impiego per cui seppure vengono firmate presso i datori di lavoro però se non c'è la convalida nostra non ha valore soprattutto per le donne o anche i papà che hanno bimbi di fino a un anno di età devono essere convalidate presso la DPL perché altrimenti questa cosa che adesso mano a mano viene a conoscenza degli interessati sta smuovendo un po' le coscienze di tutti e quindi si sentono più forti pure di avere alle spalle un supporto diciamo dell'ufficio è abbastanza importante questo dato almeno per questo aspetto delle dimissioni poi ripeto per l'occupazione la provincia ci sono tanti banti che sono rivolti essenzialmente alle donne e si sta procedendo mano a mano che vengono attivati nel meglio insomma grazie grazie